Sono Mirko di Pepe Nero, ormai sono dieci anni che sono aperto, la passione è la cosa principale che metto in questo lavoro, i piatti che facciamo sono sia di carne che di pesce e quest'anno ad agosto spero di soddisfarvi in ogni vostra esigenza, vi aspettiamo! Sono Saud, alimentare di Rocca Bianca Angiolina, al servizio della clientela del 1963, oltre a consigliarvi sui nostri prodotti facciamo anche consegne a domicilio gratuite, anche ad agosto vi aspettiamo! Ciao! 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 Ciao!